Bologna per Bologna e Sassuolo, derby della Via Emilia per la 29esima giornata del campionato. In paio c'è la lotta per non retrocedere. Fischia guida, si parte. Cerca il pallone Babacar, spera che raggiunge Berardi, può sovrapporre Burabia. Spazio per il cross, Babacar, il Sassuolo in vantaggio con il gol al tredicesimo di Cuba Babacar. Bravissimo a tagliare sul primo palo. Attenzione perché il gol viene annullato, review al VAR e guida Vanifica, lo sforzo di Babacar. Gemaili carica il destro, spinge in qualche modo Consigli. Orsolini non è finito, Orsolini si gira, palla sul fondo. Inizione da posizione invitante per il mancino di Orsolini. Fa lui, Consigli non bene, c'è Palassio, ancora Consigli con le gambe. Insiste il forcing del Bologna in questo finale di primo tempo. Orsolini, deviazione con la punta delle dita di Consigli, calcio d'angolo. Si riparte. Colpo di testa a prolungare di Soriano per Palassio, si crea lo spazio per Orsolini. Messo in movimento da Sansone, ancora Orsolini, fine in fondo, serie di finta, palla dentro, Lirola, salva tutto. E' falloso il tocco con il braccio di Babacar, c'è calcio di rigore per il Bologna. Pronto ad andare Pulgar, appena entrato in campo, fischio di guida. Fa Pulgar e il Bologna in vantaggio al 68esimo, col gol, Pieric Pulgar. Spazio per il contropiede per la squadra di Mihailovic, c'è l'inserimento centrale da parte di Soriano, vicino a lui Sansone. Colpo di tacco, Palassio, tutto solo, se lo divora davanti a Consigli. Bologna spinge, palun affidato a Babacar, deviazione, ancora Bologna, Bologna, Bologna! Ha pareggiato il sassuolo, ma occhio al braccio alto di guida. Segnalato l'offside del giocatore di scuola Chelsea. C'è Calvar, è buono, ha pareggiato il sassuolo, è valido, il gol di Bologna. Borsolini dalla bandierina, deviazione, destro, proprio destro, al 96esimo, fai pazzire il Dallara, è 2-1 per il Bologna. Treblice fischio, la vince il Bologna, con il gol all'ultimo acuto di Mattia destro, tre punti fondamentali per la corsa e la salvezza.